la votazione. Favorevole 36, contrari 325, la Camera respinge. Ordine giorno 15, Guidesi, parere contrario, lo mettiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 37, contrari 321, la Camera respinge. Siamo al numero 16, Causin, c'è un parere favorevole con riformulazione, accetta la riformulazione? Sì, l'accetta. Allora andiamo avanti. 17, Giulietti, parere favorevole, andiamo avanti. 18, Rizzo, c'è una riformulazione, accetta la riformulazione? Sì, l'accetta. 19, Pastorino, anche qui, riformulazione, è accettata la riformulazione. 20, Prodani, chiedo scusa, il parere è contrario. Chiedi di votarlo? No. Che cosa dice? Lo vuole votato? Bene, dichiaro aperta la votazione. Piepoli. Piepoli. Murer. Murer. Murer non riesce a votare. Cirielli. Allora, Murer non riesce a votare. Ha votato adesso. Bene, allora, Cirielli è arrivato al suo posto. Ha votato anche lui. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 61, contrari 311, la Camera respinge. Siamo al 21, Brignone, c'è una riformulazione? Accetta la riformulazione? Sì. 22, Barbanti, sempre riformulazione che va bene. 23, Duranti, accetta la riformulazione? Sì, l'accetta. Andiamo avanti. Piras, 24, accetta la riformulazione? Sì, l'accetta. l'accetta la riformulazione? Sì, l'accetta. Sì, l'accetta. Sì, l'accetta. Grazie a tutti.